Ciao a tutti e tutte, sono Rebecca Gazzola, ho 22 anni, sono nata e cresciuta a Milano. Sono un'attrice, ho formazione cinematografica e teatrale. Parlo madrelingua all'italiano, ho un buon livello di inglese e un discreto livello di francese. Vorrei diventare attrice, principalmente cinematografica, e appunto per vivere tramite i miei personaggi parti di verità che sono in me. Sono abbastanza sportiva e versatile nella danza e discreta nel canto. Grazie, ora vi faccio vedere i miei profili. Grazie.